Presidente, un buon galoppo con il Napoli, una marcia di avvicinamento alla stagione che conta, la Coppa Italia, la partita con l'Olbia, soprattutto al campionato. Sì, sì, una marcia di avvicinamento, era la prima partita vera che abbiamo fatto, chiaramente contro una delle squadre migliori del campionato di Serie A, e quindi faceva testo fino a un certo punto, però visto dei buoni movimenti da parte dei ragazzi, e chiaro oggi mancavano anche tanti ragazzi che erano fuori per qualche acciacchetto, però quelli che hanno giocato hanno fatto anche molto bene il loro lavoro, considerando che il Napoli non aveva sicuramente bisogno, ma credo che due o tre reti di quelle che ci hanno fatto erano in assoluta posizione di fuorigioco, però va bene uguale perché non era questo il problema. Presidente, a tenere banca ovviamente il mercato, partiamo dalle note un po' dolenti, Busellato e Galano andranno via, non sono stati convocati per questa partita con il Napoli, ma ci sono delle difficoltà per la cessione di questi due giocatori? Guardate, io credo che i ragazzi debbano essere prima di tutto dei professionisti, perché poi è chiaro e evidente che tutti quanti noi vogliamo qualcosa in più nella vita, e ci sono le aspettative che sono diverse, però in Serie C credo che non ci sono andato solamente io, anzi loro sono stati tra i fautori di questa annata disgraziata, quindi credo che dovrebbero anche passarsi una mano sulla coscienza anche loro. Detto questo, se dovessero arrivare richieste che ad oggi non ci sono, sicuramente non tratteniamo nessuno per la forza o per la maglia, però al momento credo che il compito principale dei calciatori che sono pagati e sotto contratto debba essere quello di essere professionisti. Se il primo settembre dovessero ancora essere dei giocatori del Pescara cosa accadrebbe? Accadrebbe che lo devono fare già da adesso, devono fare i professionisti, perché ripeto, siccome poi alla fine del mese lo stipendio arriva a queste persone, e non è che qualcuno gli ha messo il coltello sotto la gola quando hanno firmato i contratti, così come non l'hanno messo loro a me, e quindi sono i giocatori del Pescara e devono dare il massimo per il Pescara. Io pure vorrei avere tante cose belle o tante cose di più di quelle che ho, ma comunque ognuno di noi ha dei limiti, se non ci sono richieste evidentemente non sono così poi i giocatori così importanti. Presidente, capitolo portiere, è arrivato Di Gennaro, questo cosa vuol dire? Che per Pigliacelli la questione è chiusa o cercherete anche un altro portiere, considerando che c'è anche un ottimo ragazzo come Sorrentino? No, no, ma questa è una cosa che mi fa piacere che lo dici, perché secondo me la dobbiamo smettere di andare a cercare sempre qualcuno fuori, quando in casa poi si hanno dei ragazzi come quelli che hanno giocato oggi, che non hanno nulla da invidiare a quelli che arrivano dai grossi club. Sorrentino è un ragazzo che noi abbiamo nel nostro settore giovanile da sempre, è cresciuto molto, oggi è dimostrato che è un ragazzo che ci può stare tranquillamente in porta, quindi al momento i tre portieri li abbiamo, quindi non abbiamo nessun bisogno di andare oltre. All'inizio abbiamo fatto un'offerta, credo anche corretta e giusta, prima di prendere Di Gennaro per riportare Pigliacelli a Pescara, chiaramente la proprietà del Creover, il Creover ha risposto in maniera diversa, noi non possiamo seguire quello che chiede il Creover, quindi noi siamo a posto così. Arriverà almeno un altro attaccante, Presidente? Ma credo di sì, credo di sì, credo che arriverà un altro attaccante, credo che adesso compatibilmente anche con quelli che usciranno sicuramente faremo qualche altra cosa. Val di Fiori? Val di Fiori oggi ha giocato 5 minuti solo perché non stava benissimo, il mister addirittura non lo voleva proprio schierare in campo per evitare magari di farsi male, però il ragazzo ci ha voluto essere e questo è anche un bel segnale perché comunque da questo punto di vista è un ragazzo positivo, è un ragazzo che tira sempre il gruppo, che mette anche allegria nel gruppo e che è qualcosa che in questi ultimi anni è mancato in questo gruppo di lavoro, quindi Val di Fiori se dovesse uscire fuori qualche situazione positiva, bene, altrimenti rimarrà a Pescara e sicuramente darà un contributo per questa squadra.